Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo allenamento casalingo. Io sono Fabiana, per chi non mi conoscesse, e oggi vi propongo un nuovo allenamento. Questo giorno andremo a fare un circuito composto da 40 secondi di lavoro, 20 secondi di recupero, 6 esercizi ripetuti per 4 volte. Ricordatevi sempre di fare un buon riscaldamento prima di ogni attività e lo stretching ovviamente alla fine, per evitare eventuali infortuni. Vi mostro adesso gli esercizi che andremo a fare. Primo esercizio, possiamo utilizzare due bottiglie d'acqua, in alternativa una cassa d'acqua se volete aumentare il carico e ci facciamo il nostro squat quotidiano. Punta di piedi leggermente stravuotate, scendo massima apposciata, salgo, contraggo i glutei, scendo e su contraggo i glutei. Secondo esercizio, portiamo le mani dietro la nuca, su bene le ginocchia, skip. Terzo esercizio, portiamo le mani a terra sotto le spalle, posizione di plank, mantieni la posizione, forte l'addome, apri, chiudi, apri, chiudi. Quindi, respira, alternativa, una gamba alla volta. Quattro esercizio, ci prendiamo sempre le nostre bottiglie d'acqua o i vostri pesetti. Posizione, isometria, squat, distendi le braccia, apri bene il petto, dicipiti fuori l'aria. Quando sali, mantieni la posizione, sempre la schiena dritta e sempre col sorriso. Quinto esercizio, da qui scendo, cammino avanti con le mani, se volete appoggiate le ginocchia, push up e ritorno. Su, scendo, push up e ritorno. Ultimo esercizio, gambe distese, braccia distese, salgo, scendo, fuori l'aria quando sali, stendi le gambe, stendi le braccia e sali. Ragazzi, questo era l'allenamento di oggi, ricordatevi di fare lo stretching finale e ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao!